viviamo nell'era del consumismo quindi secondo voi quanto importante avere la possibilità di caricare questo caricare questo caricare queste caricare questo caricare questo o molto più comunemente caricare questo qui quindi dato senza che facciamo speculazioni su come l'energia potrà esistere in un futuro noi possiamo vedere semplicemente con piccoli accorgimenti come possiamo crearci dell'energia semplicemente utilizzando cosa utilizzando quello quello che c'è fuori perché il sole è una grande fonte di energia che noi dobbiamo assolutamente utilizzare come possiamo fare e bene io adesso vi farò vedere un pannello solare eccolo qua questo è un pannello solare esistono davvero migliaia di modelli e simili di pannelli solari questo pannellino qua che ho comprato su amazon io vi lascio il link in descrizione quindi se volete acquistarlo lo trovate direttamente lì questo qui permette di poter caricare qualsiasi cosa che abbia in dotazione una usb perché qui questo pannellino qui è dotato di connettore usb quindi possiamo praticamente caricarci tutto come possiamo fare prendendo semplicemente questo qui caricatore quindi dobbiamo semplicemente prendere la nostra usb infilarla così prendere il nostro connettore dove ho messo il telefono e andare a fare questo così facendo questo pannellino dovrà caricare il mio smartphone ma è davvero possibile sì allora è possibile poter caricare questo smartphone adesso voi starete vedendo un timelapse di come questo pannellino sta caricando lo smartphone posso dire che ovviamente non possiamo pensare di dover caricare uno smartphone al cento per cento come i nostri caricatori da muro in un'ora un'ora e mezza ovviamente ci potranno passare due giorni prima che possa caricare uno smartphone del genere perché comunque non ha la potenza adatta da poter per caricare molto così velocemente uno smartphone perché comunque parliamo di 4000 mAh ci sono smartphone da anche da 6.000 5.000 questo pannellino qua offre una carica di 7,8 watt più o meno considerate che i nostri nostre prese da muro hanno anche 60 watt quindi potete pensare che sicuramente non andrà a caricare il mio smartphone in modo veloce come farà il trasformatore da muro però posso dire che diciamo che in dieci minuti può caricare l'un per cento quindi è vero che è molto molto debole però comunque come avete visto nel timelapse due per cento in venti minuti potrebbe sembrare poco ma effettivamente è tanto perché comunque noi non andremo a caricare questo con questo pannellino ma bene sì ma bensì semplicemente questo qui questo qui è un è un power bank un power bank ce ne sono di diversi tipi questo qui ha più o meno 20.000 mAh quindi può caricare tre volte il nostro smartphone diciamo facciamo una un conteggio così vel alla veloce però con questo qui che è collegato a pannello tenendolo fuori al sole in piena luce ovviamente deve essere il pannellino deve essere messo in pieno sole per poter caricare a quelle a quei vattaggi può caricare anche diciamo se non c'è il sole ombreggiato ma ovviamente non saranno più 7 watt di carica ma saranno molti molti di meno parliamo anche di mezzo watt non è così così potente però comunque cosa cosa farà voi mentre utilizzate il vostro smartphone che avrete magari una carica al cento per cento questo qui potrete metterlo al sole magari per due giorni due tre giorni metterlo a caricare in piena luce e questo qui si ricarica ricarica del tutto quindi questo qua poi potrà caricare il vostro smartphone come semplicemente utilizzando lo stesso filo perché noi adesso con tutti questi fili che sembra cablaggi vari noi semplicemente andiamo inserire la nostra usb qua il nostro caricatore al power bank e lui andrà a caricare il power bank quindi molto molto utile quando avremo finito cosa possiamo fare prendere questo metto un attimo via perché non voglio che cada prendere questo togliere invertire mettere qua usb che questo a dotazione 2 usb prendere questo ecco a legarlo semplicemente al nostro smartphone così pac e lui infatti vedete che si è acceso perché si sta caricando ovviamente voi lo vedete ed acqua come vedete lui sta caricando adesso è quasi scarico quindi dovrò metterlo a caricare ah vi lascio pure il link in descrizione di due tre power bank in base di varie potenze quindi se volete andare ad acquistare andate qui sotto dove ci sono i commenti voi troverete il link di questo e del power bank vari power bank quindi potete decidere voi cosa cosa acquistare ovviamente mi potreste dire ma quello lì è un pannellino cosa ci vuoi fare caricare le cose con quel pannellino ebbene sì voi avete ragione ma io sapete che io sono pieno di inventiva io ho deciso di comprare dei pannelli solari di comprare dei pannelli solari di quelli performanti che danno una bella carica quindi ho intenzione di fare un progetto di andare io l'ho già comprato in realtà lo sto progettando nella mia testa sto facendo varie ricerche ho comprato già pannelli solari inverter perché l'inverter ma quasi quasi ve lo faccio vedere andiamo ecco ci stiamo addentrando nella mia cantina dove io qua faccio tutti i miei esperimenti allora eccolo qua allora questo qui è l'inverter che vi dicevo adesso sto facendo alcuni test come vedete è un inverter dove possiede fino a 7 mila watt quindi una buona buona diciamo buona corrente 7 mila watt sono 7 kilowatt con batteria qui ho utilizzato una batteria della macchina ma perché poi vi spiegherò non vi spoilerò niente so che questo collegamento non è molto adatto infatti come vedete qua mi è andato un po qualcosa male se non è uscito un po di acido devo risolvere questa cosa per quello non vi ho fatto ancora il video e utilizzerò questi qua che sono dei condensatori ma questo poi ve lo spiegherò un altro giorno perché quest'anzi vi faccio vedere anche i pannelli i pannelli sono molto importanti eccoci qua come vedete questo qui si diciamo che è molto diverso da quello che abbiamo visto in precedenza questo pannello qua è molto grosso è molto performante perciò questo qui io ne ho presi due quindi questi due mi potrebbero dare una bella carica quindi ho il progetto di fare questo questo esperimento di creare energia con questi pannelli qua quindi ma questo ve lo farò vedere in un altro momento perché comunque è un progetto abbastanza lungo ci va del tempo e bisogna progettare bene in modo da poter far funzionare tutto io per questo video io vi lascio quindi se volete iscrivervi al canale mi fate solo un piacere un aiuto perché così almeno sostenete il mio canale possiamo anche comunicare e scambiarci anche delle idee e delle informazioni quindi iscrivetevi al canale e accendete la campanella molto importante per ricevere una notifica che è uscito un mio video niente di più quindi supporterete il mio canale e il mio lavoro se volete quindi acquistare quello che vi ho fatto vedere powerbank e quei pannellini magari ve ne metto due tre da poter scegliere perché è molto importante potersi generare della corrente in un'era dove c'è tanto consumo e non sappiamo con queste guerre dove andiamo a finire è molto importante generarsi un po di corrente da soli in qualche modo di emergenza ovviamente quindi per questo è tutto questo video è tutto rimanete sintonizzati ci vediamo alla prossima ciao